Radio Radicale torniamo a questi spazi di approfondimento della nostra emittente che stiamo curando in questo periodo insieme a Carlo Crosato che è un ricercatore che ci sta aiutando in questa serie di trasmissioni in cui ci occupiamo di temi eh vari a partire dalla competenza specifica di eh Carlo Crosato che è quello che è quella della filosofia. Oggi abbiamo una ospite che innanzitutto salutiamo eh la professoressa Donatella eh di Cesare bentornata a Radio Radicale professoressa di Cesare. Grazie 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 a voi. La professoressa di Cesare è una filosofa saggista insegna filosofia teoretica all'Università La Sapienza di Roma. Allora eh Carlo oggi eh parleremo dell'ultimo libro della professoressa eh di Cesare il titolo è di strettissima attualità in realtà ed è questo il complotto al potere stampato da Einaudi. Io lascio immediatamente la parola a Carlo e poi magari qualche domanda la farò anch'io alla dottoressa di Cesare alla professoressa di Cesare. Grazie Michele e ben trovata professoressa. Ehm questo è un libro davvero molto attuale di strettissima attualità denso eh sono poco più di cento pagine ma ogni pagina vale la lettura è molto prezioso. Eh lei professoressa entriamo nel vivo rifiuta di delineare in questo libro un'antropologia del complottista come di un retrogrado ehm rifiuta di parlare del complottista come ne parlerebbe il senso comune o come come di un cavernicolo retrogrado superstizioso credulone che è una eh una definizione che certo eh accessibile a tutti però insomma eh ha anche degli esponenti illustri quelli che lei chiama approcci normativi eh sono gli approcci che vedono nel complottismo eh o una malattia da sottoporre ad analisi psichiatrica o una eh un mancato accesso a una verità cosiddetta oggettiva e quindi a cui applicare una eh quello che viene chiamato il debunking ehm perché questi approcci così stigmatizzanti che pure dicevo hanno avuto esponenti di rilievo Umberto Eco eh eh uno fra i pensatori con cui lei si confronta secondo lei non funzionano cosa hanno che non funziona? Sì infatti è è proprio così allora inizierei col dire proprio che il mio libro è certo un libro sul complottismo eh come fenomeno diciamo politico complotto attuale però contemporaneamente eh il titolo è significativo il complotto al potere eh nel senso che io non mi riconosco assolutamente eh nel nella posizione eh di quelli che io chiamo gli anticomplottisti e e quindi se vogliamo il c'è nel mio libro anche un obiettivo critico che è un certo eh pensiero moderato progressista o neo illuminista eh di cui indubbiamente Umberto Eco è eh l'esponente infatti io dedico diverse pagine anzi un capitolo eh alla posizione di Eco quindi critico Eco eh perché soprattutto in Italia ma non solo appunto Eco è stato esponente di questo pensiero eh proprio nel senso che lei diceva no? Cioè da una parte c'è la ragione e dall'altra parte eh ci sono coloro che sragionano no? Eh e sragionando eh si situano in una sfera che può essere indicativamente o quella del delirio no? Eh e quindi in questo caso il come dire il complottista eh è eh diciamo eh tra virgolette appunto come le diceva un malato no? Cioè il morbo del complottismo quindi è un po' un crampo mentale e va situato da qualche parte nel cervello nei neuroni o cose di questo genere eh oppure invece il complottista è semplicemente un bugiardo un mentitore eh quello che appunto che diffonde fake news e in questo caso allora eh sragiona perché appunto argomenta in modo illogico allontanandosi dalla ragione comune ecco ehm questo pensiero anticomplottista dominante direi che effettivamente l'obiettivo polemico del del mio libro e insieme a Eco per esempio c'è anche Karl Popper perché eh appunto ecco poi non fa che ereditare questa linea eh e quindi io non mi associo assolutamente eh ai eh a quella che io chiamo un po' la vulgata anticomplottista che secondo me è esattamente speculare al complottismo no? È l'altra faccia ehm e eh perché? Bah perché appunto la mia tesi di fondo è che eh il complottismo non è assolutamente eh un crampo mentale non è un delirio ma contemporaneamente al eh contrariamente a quello che si crede non ha a che fare con la questione della verità ma invece ha soprattutto a che fare con la questione del potere questo è il punto. Questo è un punto su cui poi ehm voglio tornare in maniera precisa e puntuale perché eh la tesi eh sono le pagine più più interessanti del libro ehm vorrei ritornare eh rimanere però ehm ancora su su questo profilo antropologico del del complottista e lei parla del complottismo come una scorciatoia nella complessità in cui viviamo e spesso però le spiegazioni ehm complottistiche sono davvero astruse sono al limite dell'incredibile quindi siamo davvero sicuri che sia una scorciatoia che cosa rende eh oggi una spiegazione complottistica più accessibile eh di quella che segue una sua logicità prima lei faceva riferimento all'illogicità eh o meglio perché la spiegazione logica genera così spesso della repulsione del sospetto? Eh ma eh anzitutto perché eh noi viviamo in un mondo che è diventato per noi indecifrabile un mondo in cui non solo siamo smarriti disorientati ma in un mondo in cui abbiamo perso come dire il filo della storia no? E e e basti pensare al rapporto che noi abbiamo con il futuro il futuro che incombe e che eh per noi è inquietante dopo la pandemia in questa pandemia vi è più ehm quindi eh tutta l'idea che noi avevamo eh del progresso dunque di una umanità come dire in questa eh spinta no? In questa corsa verso eh a ciò che è meglio al miglioramento al progresso è una costruzione che ormai sta andando in frantumi eh questo non può non avere ripercussioni sul modo in cui noi ci rapportiamo agli altri a noi stessi e al mondo ehm e allora ehm all'interno di quella che io chiamo questa illegibilità del mondo che è un po' un grande anche questo un grande tema filosofico eh la 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 mia idea è proprio che eh la eh spiegazione complottistica è la la spiegazione eh più accessibile perché perché eh ci deve essere da qualche parte la causa dei nostri mali dunque se c'è eh un problema economico una crisi economica come c'è se c'è una pandemia se ci sono i disastri ecologici da qualche parte c'è una causa da qualche parte soprattutto c'è un colpevole e quindi eh è molto più facile seguire questa linea della causalità cioè cercare immediatamente una causa no? piuttosto eh invece che eh come dire riflettere sulla complessità di questo mondo e evidentemente anche sui eh sulle tante cause concomitanti. Questo meccanismo è un meccanismo che io credo tutto sommato sia stato già abbastanza eh messo in luce ed è un po' eh il meccanismo come dire tipico della metafisica no? Cioè da qualche parte c'è una causa. Questa causa evidentemente è nel retromondo cioè eh quando noi parliamo no? Gli italiani parlano secondo me giustamente di dietrologia che è un termine probabilmente in altre lingue non traducibile. La dietrologia vuol dire proprio questo cioè vuol dire eh cosa come come si traduce anche statisticamente? Beh si traduce basta vedere i numeri nel fatto che eh addirittura eh il quaranta per cento della popolazione delle democrazie occidentali è convinta che eh non siano i propri governanti ad avere effettivamente eh a reggere le fila del potere ma che ci siano dietro altri altre forze occulte i poteri forti, le multinazionali ma che sono costoro. Ecco questo è un po' questo retromondo della politica per cui per noi ormai la questione della crisi della democrazia secondo me è malposta perché piuttosto questo sdoppiamento della politica per cui eh per noi la politica ha perso completamente senso perché eh c'è questo retromondo della politica dove ci sono i poteri forti che per noi è inaccessibile. Ecco e quindi è molto più facile pensare che la causa dei nostri mali sia lì da qualche parte in quella che io chiamo un po' l'archiscena oscura, tenebrosa del complotto. Certo. Quindi lei dice eh il complottista non sfugge alla domanda aperta però tante domande se le pone perché di fatto eh la frase tipica del complottista è non ce lo dicono, chi c'è dietro è uno dei capitoli del libro ehm e quindi tante domande vengono poste ma non sono domande aperte alla complessità, sono domande eh come dicevamo prima scorciatoie ecco. E qui si pone, prego. Eh allora sì e no nel senso che ehm eh anzitutto quando io parlo del complottista io dico che noi siamo complottisti. Cioè per me non c'è il complottista che qualcuno a cui io eh diciamo sto come dire affibbiando questa etichetta che tra l'altro è uno stigma, nessuno si autodefinirebbe complottista. Ma io dico che dobbiamo riconoscere che i primi complottisti siamo noi perché eh tutti noi ormai siamo abituati, siamo spinti a chiederci cosa c'è dietro, qualsiasi qualsiasi cosa avvenga, qualsiasi fenomeno appunto avvenga. Dunque il complottismo per me eh appunto non è tanto un problema come dire appunto antropologico oppure neurologico eh né logico. È il complottismo per me è un dispositivo eh ed è il dispositivo del potere cioè è uno schema interpretativo attraverso il quale tutti noi consapevoli o no interpretiamo interpretiamo la realtà. Questa direi che è la mia tesi eh di fondo. Detto questo eh attenzione io non faccio parte di coloro che predicano la fiducia eh o la gentilezza. Per me i conflitti sono conflitti eh e quindi eh il sospetto è il sale della democrazia. Perciò eh in questo senso io difendo il complottista, la complottista che è in me eh perché l'esercizio del sospetto è indispensabile. Il problema del complottismo eh è quando eh il sospetto diventa un dogma. Certo. E e e quindi diventa e quando il complottista eh si chiude nel suo dubbio iperbolico eh e a quel punto diventa un credulone. Anziché anziché aprire domande a cieca. Esatto. E qui è il problema del potere. Ecco questo è il centro del ehm del suo libro. Il potere come ehm la natura politica del complotto ecco eh il potere eh e la sua configurazione contemporanea ne sono all'origine e la politica è la politica a dover dare trovare una risposta. Questo è mi pare eh il che proprio attorno a questa tesi eh si si spendano le pagine più importanti eh del libro. Lei parla di un'eclissi della politica che è causa ed è a sua volta fomentata dal complottismo che ehm che eh di fatto mh mette da parte la risposta politica ben congegnata ecco. Il complotto con la C maiuscola lei scrive eh è il è il modo in cui viene rappresentato il potere senza volto e senza nome eh che risulta quindi inafferrabile e quindi incontestabile. Il complottismo ha quindi una ragione d'essere lei diceva no? E sebbene in qualche modo il complottista sbagli diagnosi e cura accecandosi. Esatto cioè io penso che ehm sia sbagliato e l'ho sentito anche ripetere in questi ultimi giorni eh sia sbagliato dire che il complotto esiste da sempre eh che questo fenomeno eh è antichissimo ehm non è vero. Io sono sempre convinta che la storia ci insegni molto eh e eh ci sono delle date importanti per quanto riguarda il complottismo. Quando è che nasce il complottismo? Il complottismo nasce con la rivoluzione francese eh e quindi nasce con la democrazia cioè nasce con l'Europa democratica eh quando non c'è più il sovrano no? Eh quando non esiste più la figura del monarca e quindi quando il potere non è più identificabile quindi da una parte ci sono eh i eh i reazionari monarchici no? Che gridano al complotto ma dall'altra parte anche i rivoluzionari lo stesso Robespierre eh diciamo eh i giacobini eh che eh che gridano anche al complotto ma perché che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo la democrazia cioè la democrazia dove la sovranità del popolo non è come la sovranità del sovrano no? Del mona del vecchio monarca ma è un corpo politico completamente nuovo dove c'è un vuoto perché la democrazia è questa forma politica eh è anche una forma di vita che si costituisce intorno al vuoto e non sarebbe altrimenti democrazia quindi c'è questo disorientamento dei cittadini. L'altra data importantissima per noi io credo che sia l'undici settembre. Perché l'undici settembre? Dunque perché il complottismo così come noi oggi lo conosciamo eh è un fenomeno caratteristico del ventunesimo secolo eh e e proprio per questo non è eh non è come dire un eh riburgito del passato non ha nulla a che fare eh con la superstizione, la stregoneria, la magia. al contrario è un fenomeno caratteristico peculiare del ventunesimo secolo e eh prende in qualche modo il sopravvento nella scena pubblica proprio con l'undici settembre quindi con quell'attentato eh che eh in cui eh moltissimi vedono un eh inside job no? Del governo americano cioè il governo americano che in qualche modo ha pilotato quegli aerei e da allora eh in questi vent'anni noi abbiamo assistito a un'escalation e certo la pandemia segna veramente adesso proprio il culmine no? Di di tutto questo. Ehm chi pensa il complottismo interne i termini di un rigurgito del passato secondo me manca proprio la peculiarità di questo fenomeno e qui arriva la sua domanda cioè la sua domanda per me è importantissima cioè il la questione del potere è eh che per noi oggi eh il potere non è più nemmeno quello descritto da Foucault negli anni ottanta eh il potere la microfisica del potere quindi il potere in qualche modo che viene esercitato dalle istituzioni in modo coercitivo eccetera ma per noi il fenomeno nuovo secondo me non ancora abbastanza indagato è proprio quello che lei diceva cioè il potere eh senza nome senza volto senza indirizzo quello che in politologia viene chiamata la governance quello che viene chiamata la governance per cui da una parte si esercita e si esercita con violenza ma dall'altra parte noi non sappiamo dov'è non sappiamo a chi rivolgerci questa è eh veramente la nostra grande frustrazione anche quello che ci fa sentire impotenti no? Eh noi non sappiamo anche di fronte siamo in fondo spettatori quando si parla di indifferenza secondo me è una parola in parte anche sbagliata perché non è che noi siamo veramente proprio indifferenti pensiamo a quello che succede eh per esempio in Polonia in Lituania con i migranti no? Eh ma il problema è che non sappiamo eh spesso non sappiamo cosa fare non sappiamo a chi rivolgerci non sappiamo eh contrastare questo potere perché questo potere è un potere mascherato è un potere eh che noi non riusciamo veramente a stanare questo è il vero punto e il complottismo nasce da qui. Il al fondo potremmo dire c'è un tradimento specie eh come diceva lei in ambito democratico c'è un tradimento eh delle eh della promessa di condivisione di libertà e responsabilità e mh è lo scippo del potere del confronto pubblico a spingere a porsi la domanda su chi ci sia davvero eh dietro il potere e e e questo ehm eh lei parla di una divaricazione che eh se ci fosse un confronto più franco più diffuso non avverrebbe questa appunto questa divaricazione tra un potere senza nome senza testa per tornare a Foucault e ehm e eh il popolo di cui si dice eh a avere il potere al potere che ha il potere ehm c'è chi direbbe però che il complottismo rimarrebbe ehm anche in un confronto diffuso e eh e democratico eh rimarrebbe tale e anzi immesso nel dibattito pubblico riuscirebbe a ottenere consenso di fatto eh è quello è un po' quello che sta succedendo con la pandemia dove tutte le voci hanno libera circolazione e anche le voci più ehm a scientifiche antiscientifiche riescono a strappare un consenso sbaglio ma io penso che siano due piani diversi allora eh un piano è quello della questione diciamo della democratica che secondo me non è una questione di crisi della rappresentanza o della partecipazione ma è una è una questione molto più profonda cioè è la questione di una politica eh ridotta a governance amministrativa eh che ehm in fondo esegue il dettato della dell'economia e e e da ultimo anche della scienza eh e quindi eh e quindi questo è veramente il problema del complottismo tant'è vero che eh eh nel complottismo proprio quello più recente si parla eh per esempio di deep state no che è un termine anche rilanciato per esempio ehm da da tanti siti eh complottisti cioè eh la questione qual è? La questione è che cambiano i governi eh si alternano al potere e al governo anzi i partiti ma poi eh tutto rimane come prima no? E allora qual è la la una delle teorie è proprio questa cioè che c'è uno stato profondo e quindi ci sono cambiamenti di facciata ma lo stato profondo resta questo quello e contemporaneamente connessa a questa è l'idea secondo me fondamentale dirompente del nuovo ordine mondiale che è connessa quindi da una parte per esempio eh in Italia in Germania dove che sia si avvicendano al potere al governo le forze politiche però poi il chi governa resta sempre lo stesso e dall'altra parte governa e non governa perché perché in fondo le sorti dell'Italia le sorti dell'Europa eccetera eccetera eh sono nelle mani di pochi che sono quelli che reggono le fila del nuovo ordine mondiale e il nuovo ordine mondiale è eh questa ormai questo slogan è anche questa questa sigla che non è null'altro eh che un po' l'idea della lo spauracchio il fantasma lo spettro eh dello stato mondiale quindi chi governerà il mondo chi governerà anche il mondo nel futuro chi governa davvero oggi eh sono appunto i poteri forti le forze occulte le multinazionali che però sono sempre indefinite eh eccetera eccetera questo è davvero il problema del complottismo ed è per questo che non è facile da risolvere l'altra questione che lei poneva è invece la questione di quella che io chiamo piuttosto la comunità interpretativa cioè eh eh io non penso eh che ehm che le fake news eh siano semplicemente dovute alla come dire alla malafede eh eh dei complottisti o eh alla eh diciamo alla voglia di mentire non non si tratta di questo questo è un modo semplicistico di vedere le cose così come è un modo semplicistico pensare alla verità in termini oggettivi quindi io ho la ragione tu sragioni io ho eh la verità oggettiva come proprietà come possesso e tu invece spargi fake news ecco io non credo questo e devo dire che mi mi ha colpito qualche tempo fa la lettura di un articolo del New York Times di un giornalista New York Times che eh diceva un po' proprio questo cioè che il problema delle fake news anche dal punto di vista dell'informazione non è veramente posto nella sua complessità da che cosa derivano le fake news e derivano dal fatto che noi siamo in un flusso di notizie e di informazioni continuamente e che eh queste notizie eh sono un po' come tanti pezzi di Lego che non sappiamo più montare ci manca la possibilità del montaggio non sappiamo più non ha non abbiamo più l'idea della gerarchia e quindi abbiamo bisogno invece della eh contesto interpretativo quello che manca è proprio il contesto interpretativo e il contesto interpretativo può esistere soltanto se come diceva lei c'è un confronto c'è uno scambio ecco perché quando io sento dire non facciamo più partecipare alle trasmissioni inovax un po' inorridisco perché secondo me non è assolutamente questa la strada no? Eh non è questa la strada nel senso che eh eh è indubbiamente necessario un confronto altrimenti si crea una frattura che diventa una frattura insanabile e e non sappiamo veramente dove poi questa frattura il rimedio peggiore del male Michele. Grazie eh davvero moltissimi temi e io voglio approfittare eh per ringraziare ancora una volta Carlo Crosato che ci eh sta eh guidando diciamo in questi territori che ci consentono davvero eh di toccare argomenti molto molto interessanti della professoressa Donatella Di Cesare ha toccato moltissime questioni io avrei veramente moltissime domande anche perché cerchiamo a Radio Radicale spesso di occuparci eh di queste questioni e la professoressa Di Cesare lo sa bene perché è stata spesso nostra ospite eh professoressa lei ha davvero evocato moltissime questioni ecco lei naturalmente eh sta analizzando questa questione e sa molto meglio di me quanto siano pericolose però certe questioni nel senso che quando si parla di eh nuovo ordine mondiale quando si parla di deep state sappiamo che poi eh questa eh questione sfocia anche nell'antisemitismo in questi problemi e lei ha parlato dell'antisemitismo in termini eh molto molto eh chiari molto ehm davvero convincenti e quindi è evidente che lei sta dipingendo un quadro per cercare di aiutarci a comprenderlo ecco ma io pongo una domanda lei ha escluso una serie di questioni eh avete parlato anche del governo e della crisi della democrazia eh del potere ecco mi correggo perché voi avete parlato di potere e avete parlato di crisi di democrazia mondo radicale diciamo ci eh tramanda tante questioni e una di queste in particolare era cara Marco Pannella cioè quella di distinguere tra potere e governo e eh di attribuire al governo una logica certamente diciamo illuminista come ha detto la la professoressa di Cesare non eh tralasciando anche eh le critiche che si fanno a questa a questa impostazione diciamo così ecco ma 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 tutto quello che abbiamo davanti con i tragici pericoli che abbiamo davanti a questi vuoti che vengono colmati con questo strumento del complottismo se se sintetizzo in maniera brutale però è per capirci ecco ehm non c'è forse anche da parte nostra di tutti noi un un'attesa di risposte che noi eh eh indirizziamo alla politica al potere ma forse queste risposte possono venire da altro cioè noi abbiamo bisogno di spiegarci il mondo nel quale viviamo e eh eh di chi è la colpa del nostro malessere ecco forse lei ha evocato anche proprio questa frase se non se non ho frainteso ma forse appunto eh sbagliamo bersaglio. Sbagliamo completamente bersaglio. Infatti secondo me il il problema del complottismo è proprio questo è sbagliare bersaglio e sbagliare bersaglio eh nelle piccole lotte ma anche in quelle grandi e e proprio come lei diceva perché il grande problema oggi eh è che eh non c'è un potere che davvero viene esercitato no? Non c'è il potere sovrano no? Ecco perché approfitto per fare una distinzione che mi sta molto a cuore e che come sappiamo oggi è fonte di polemiche no? Allora io per esempio devo poter distinguere tra lo stato d'emergenza e lo stato d'eccezione perché lo stato d'emergenza eh è come dire ha una sua necessità che nasce eh per esempio eh da fenomeni naturali e quindi hai un terremoto, hai uno tsunami, hai una pandemia no? E eccetera eccetera. Quindi lì hai un'emergenza a cui devi rispondere che devi fronteggiare. Altro è lo stato d'eccezione dove hai che scaturisce eh da un potere in fondo soggettivo, un potere sovrano, quindi siamo già in un contesto che è un po' eh originariamente quello degli anni trenta. Allora il il non distinguere per esempio eh eh vuol dire già entrare al in una logica complottistica no? La pandemia c'è perché eh in qualche modo il potere la utilizza. Forse il potere per certi versi la utilizza anche però se io non distingo allora eh naturalmente prendo una deriva che è una deriva rischiosissima. Il il nostro problema che ehm lei giustamente mette in rilievo è che eh noi non vediamo spesso anche l'impotenza del potere cioè il fatto che il potere è incapace. Oggi noi noi abbiamo un potere politico che di fronte per esempio alla sfida ecologica, ai grandi disastri ecologici, non sa cosa rispondere, non sa come fronteggiarli. Quindi questo è come dire sarebbe un po' il salto anche interpretativo. Quindi eh ma è evidente che questo richiede complessità, richiede una una riflessione molto più complessa. Carlo io non so se tu hai altre domande ma di domande ne avrei una valanga ma il tempo ormai è concluso. È davvero però il tempo purtroppo è finito quindi noi eh ringraziamo davvero molto la professoressa eh di Cesare. Magari Carlo organizzeremo un altro incontro con la professoressa di Cesare per ritornare su queste questioni perché l'attualità eh di questa eh tematica non si esaurisce temo eh nel giro eh di questi giorni di queste settimane intanto eh davvero ringraziamo ancora una volta la eh professoressa di Cesare lo ricordiamo eh 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 ordinaria eh di eh filosofia teoretica all'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo parlato del suo libro dal titolo Il complotto al potere stampato da Einaudi e lo abbiamo fatto ecco facciamolo vedere anche per gli utenti di inter di internet eh ringraziamo davvero ancora a Carlo Crosato anche per questo ricercatore eh in filosofia che ci sta aiutando in queste trasmissioni. Grazie a Carlo Crosato e grazie davvero alla grazie a voi a professoressa Donatella di Cesare. Grazie ancora. Grazie.